buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video spero che si senta bene perché questa sta un po rimbombando l'audio come vedete giornata un po nebbiosa siamo ad andalo e oggi proverò a fare non lo so quello che farò di preciso che ci porto con me in questa prima giornata e ci si vede sulle piste ok ragazzi ora vado ad a molveno però tanto oggi è così almeno evito la strada per andare a molveno guardando solo dove il cavolo è da passare qui molla a a a a a a ooo ooo ok questo è l'ago emolteno qui è la big hero continuo che arriva la vederà nel raggio che poi si butta sulla matrix blade runner sotto a questo qui ero venuto su sperando di trovare il panorama che si veda il lago si vede da metà non da in cima dunque big hero questo è classico su intero facilissimo dove impari c'era a sfruttarlo ok ma era morta la batteria nella tricamera aspettavo però sono voluto perché non era così tanto caldo sarà così caldo l'assunzione come mi aspettavo il lago non si no forse di visire terminati forse si riesce a vedere un po' oddio ribaltarsi qui sarebbe stato stupendo come le cose che racconti con vergogno momento storia gli stila ok Ok... Ecco, questo l'ho cannata con tutto. Ah, ho visto due sentieri e non capisco perché. A presto di uncorso per l'ultimo giorno, mi è sicuro brambi di andare fra si bravo ma Oh Dio Lungo Oh Dio Lungo Parabello di qui Sbagliato tutto Sbagliato Ok Non mi sembra tanto gas questo Sbagliato 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 La Sbagliato 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 La Sbagliato 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 forse è qualcosa di più vicente un po' troppo a fregurarci forse non sono sicuro questo io penso neanche a provarlo questo 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 forse non è impossibile aspetta arriva lui questo non è impossibile lo posso riprovare questa è arrivata male e non me la sono fidata ma non è così impossibile questo entrare 812 Ustrail di qua però tra un po' mi sarà il torna tosta perchè i Ustrail mi dicono che sia un po' difficilotto questa me la ricordo però l'anno scorso non è difficile c'è una deviazione densa da qualche infatti ok cominciamo bene oddio sai che forse ci ho letto impegnativo ed è per la salita non per la difesa se è lo stesso dell'anno scorso sì il muscolare è un po' impegnativo semplice uuh hu uuh uuh Ah! Non è che lui là senza pedalare, su che ci vado a provare, schiaccia la! Non ce l'ho fatta eh, è impossibile, più pedalare pure, finisce più sta salita, perché secondo me tante discese lo erano da in cima, io non l'ho fatta da in cima oggi. Ok! Ok! E' il più mediativo! Ah no ma questo è... ho capito! Sì questa è Andra, l'ho capito bene! No non è quello però... Mi sto rinvenendo! E qui siamo dentro Andra! Ok! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.